il pensiero d'architetto ha anche il pollice verde oggi mi è arrivato il sensore di umidità e nutrienti della flower care ed ora andiamo a vedere come configurarlo ciao ragazzi eccoci qua con il pensiero d'architetto e adesso andiamo a vedere cosa contiene la nostra scatolina allora facciamo l'unboxing è la seconda unboxing del canale prima unboxing è stata per l'appunto la recensione del microfono lavalier che utilizzo tuttora in questo momento non ce l'ho perché sono in garage in questo studio televisivo di fortuna e vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere è un ottimo microfono lavalier di qualità prezzo e vi permette di fare degli ottimi video con un audio accettabile alla modica prezzo mi sembra di 20 25 euro su allora ecco la nostra la nostra confezione flower care praticamente c'è questa bella custodia in plastica molto resistente come deve essere aperta questa confezione eccoci qua ecco fatto subito disastro aiuto eccolo qua questo qua è il nostro oggettino con il sensore a inserire per l'appunto nel valo della nostra orchidea che guardate qua che bella le mie orchidee ne ho tantissime tutti i sabiti gli faccio fare il bagnetto in modo che rimangono sempre fiorite allora all'interno della scatola troviamo per l'appunto il contenitore rigido molto molto ben fatto e con una chiusura ermetica e il foglio delle istruzioni che adesso andiamo a vedere insieme flower care home praticamente qua c'è tutte le istruzioni con il nostro pure code per andare ad installare la nostra bella app vediamo in questo video come cura la sua app nativa poi seguirà un ulteriore video in approfondimento per vedere come configurare questo aggeggino all'interno del nostro amato home assistant lo sapete io non sopporto stare vincolato alle case madre mi piace essere libero infatti ho proprio questo perché ho letto nelle varie guide che è compatibile come assistant e tra l'altro c'è la possibilità di fare un template proprio carino per la cura delle nostre piante già dato in dotazione proprio dalla piattaforma di home assistant innanzitutto noi prendiamo il nostro bel vaso di fiori e andiamo a inserire all'interno proprio questo sensore così dobbiamo mettere il sensore in modo che rimanga la parte di plastica fuori ok come ho fatto io e che vada a inserirsi all'interno del terreno del fiore cioè non mettiamo la contatto del vaso altrimenti i valori verranno falsati ed ora andiamo a vedere come procedere con la configurazione ci dice di andare a scaricare quadrando il qr code la nostra app fare il login inserire credenziale registrarsi arriverà un codice via mail prendiamo il nostro qr code l'ha individuato e ci dice scaricami la l'app a wow wow cacao bella no hua hua cao cao.com google play installa flower caro e ora al mentre aspettiamo che venga scaricata l'app andiamo a vedere come procedere allora praticamente nel frattempo che aspettiamo vi vado a dettagliare le qualità di questo oggeggio qua praticamente allora nella parte alta c'è il sensore della luce questi due pallini qua determinano praticamente il sensore di fertilità andrà proprio analizzare tutta la nostra tra composizione del terreno e sensore di umidità viene praticamente rilevato in questa parte qua allora ricapitoliamo sensore di luce sensore di fertilità questi due pallini e il sensore di umidità del terreno lungo questa parte qua adesso hai scaricato la l'app la apriamo vediamo qua con me tutti i vari procedimenti andiamo a registrarci come google ci andiamo a a registrare come i pensieri dell'architetto vi ricordo innanzitutto di iscrivermi al mio canale youtube e iscrivetevi anche al canale telegram dove ogni tanto vado a postare alcune offerte oppure delle curiosità particolari allora qua diamo tutte le nostre conosciamo tutti i nostri consensi associamo al nostro dispositivo bluetooth ci dice di andare a attivare bluetooth sul telefonino io ce l'ho già attivo ah ok c'è scritto apri il coperchio posteriore e chiuso ermeticamente essendo impermeabile all'acqua rimuovi il foglio dell'isolante ecco aiutatevi con un piccolo cacciavite molto file da non rovinare la plastica e voi poco per volta siamo perché è ben chiuso in quanto molto isolato ecco ecco qua adesso qua vediamo la nostra struttura dobbiamo togliere la plastica di protezione nella pila richiudiamo ermeticamente il tutto e ormai deve essere acceso in questo modo connesso con successo ottimo diamo ok eccolo qua for a require andiamo a cercare orchidea vedete praticamente lui vi da tutta una serie di piante ce ne tantissime vedete che roba perché in base al tipo di pianta vi da praticamente le caratteristiche nutritive in più vi dice come fare se non conosco la pianta ti fa scansionare la foglia sui rami in coppia a destra punto dal suolo allora sui rami avanti a uovo a parte larga parte mia in base al tipo di foglie ti va a scegliere come individuare come alimentare la pianta e controlla la pianta questa qua bislunga avanti fatta così avanti liscio avanti eccole avete visto che ha trovato tutto un sacco di cose tra cui anche non c'è no no ce n'è altre 700 però adesso per brevità andiamo a scrivere ciò che facciamo prima allora andiamo qua scriviamo o chi l'idea ecco va bisognerebbe conoscere il nome scientifico dell'orchidea che in questo caso io non lo conosco però prendiamo un'orchidea molto similare a questa che può essere questa qua eccolo qua fine allora eccoci qua vedete ci va a selezionare l'umidità livello di umidità è adatto mantienilo per favore perfetto fertilità dandoci anche il range 350 2000 ahiaia come fertilità sono bassissimo la fertilità troppo bassa per favore bagnami con fertilizzanti e liquido per raggiungere un livello di circa 350 mamma mia è meglio che un dottore questo qua l'illuminazione beh l'illuminazione è abbastanza buona perché comunque sono sotto i fari del del mio studio e la temperatura è ottimale la temperatura è adeguata mantiene per favore ottimo e poi qua si creeranno i vari dati dopo un po di tempo praticamente in base quello che andremo a individuare ci saranno i vari dati contatti ora adesso andiamo ancora qua imposta piante imposta parametro dove puoi decidere tu questi parametri qua andando avanti e indietro si può resettare cambio pianta se vado a cambiare la pianta rapporto di crescita vedete quale va a crearmi tutti i miei grafici man mano che andrà a leggere i vari dati diario di pianta più delle mie piante che era questo dispositivo così intelligente dispositivo può darmi una guida perfetta su come prendermi cura è veramente una figata e qua possiamo abbiamo possibilità di fare anche le nostre fotine ragazzi è veramente una bella cosa veramente ben studiato complimenti a flower care per acquistare questo prodotto vi lascio il link di amazon in descrizione a voi non costranno niente di più ma servirà a dare un piccolo contributo per mantenere vivo il mio canale io però ho ancora un altro progetto con questo tipo di sensore voglio inserirlo nel mio orto verticale per regolare l'irrigazione automatica e farla partire quando è necessario in base all'umidità del terreno così farò dialogare tramite un assistant il sensore i miei shelly e la centralina dell'irrigazione ragazzi grazie tutto grazie di questo video un po strano un po diverso dal solito ma molto interessante anche perché è importante prendersi cura delle nostre bellissime piante ciao buona serata a tutti e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e continuate a seguirmi ciao ragazzi buona serata a tutti ciao ciao